Siamo a metà mattinata della nostra giornata dedicata al tema analisi centrale rischi, il passaporto verso il sistema bancario, una classe in cui non parliamo tra docenti e discenti ma tra operatori, una classe dinamica con il quale stiamo affrontando un tema che è sempre più pregnante nel rapporto imprese-sistema finanziario. Siamo convinti che nella seconda parte della mattinata ci sarà un escalation di interesse e poi nel pomeriggio, come ormai facciamo in tutte le nostre edizioni precedenti, presenteremo a ciascuno di loro la propria centrale rischi, il vero passaporto verso il sistema bancario. Grazie